Il mare sarà protagonista del giorno più bello della vostra vita. Villa Balche è un'esclusiva location al centro del Golfo di Napoli, ideale per ospitare il vostro banchetto noziale grazie alla sua atmosfera estremamente romantica. Nelle eleganti sale della villa potrete organizzare il vostro banchetto di nozze. Nel terrazzo panoramico con piscina invece avrete l'opzione di organizzare il banchetto all'aria aperta. Lo spazio per la sua bellezza si presta anche a essere la cornice ideale per le vostre foto ricordo. Villa Balche è anche uno splendido salotto dedicato alle feste che, a seconda dei vostri desideri, potrà essere allestito nella terrazza sul mare o nell'esclusivo locale panoramico, anch'esso affacciato sul mare con grandi terrazze dalla vista mozzafiato. In villa ogni singolo evento sarà speciale e il personale allestirà ogni banchetto con estro e originalità. Il vostro ricevimento sarà organizzato con cura in base ai vostri desideri. Lo staff cortese e preparatissimo ricreerà per voi un'atmosfera indimenticabile. La cucina spazia dalla creatività alla tradizione e vi permetterà di scegliere tra diversi menu, rispettando i vostri gusti e le particolari esigenze alimentari degli ospiti. Dalla spiaggia agli ambienti sfarzosi della location, questa struttura vi strabiglierà nel giorno più bello della vostra vita.